Indagine della DIA di Milano su società milanesi ritenute collegate a Cosa Nostra. La DIA di Milano ha arrestato due imprenditori di 46 e 59 anni, originari del comprensorio tirrenico nebroideo, raggiunti da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Milano, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia, guidata da Marcello Viola. Secondo gli investigatori, i due avrebbero costituito società sul territorio meneghino, principalmente legate al settore edilizio, che avrebbero consentito l'operatività di altre realtà imprenditoriali riconducibili al clan dei barcellonesi. I destinatari della misura restrittiva, che secondo una nota stampa diffusa dalle autorità meneghine erano già stati colpiti in passato da misure di prevenzione patrimoniali, sarebbero responsabili, in concorso con altri, dell'intestazione fittizia di diverse società giudicatarie di appalti pubblici in tutta Italia, aggirando così eventuali misure interdittive prefittizie. In alcuni casi gli importi erano ingenti, talvolta finanziati con fondi del piano nazionale riprese resilienza. Una volta ottenuta la giudicazione delle commesse, le società riconducibili agli indagati avrebbero affidato l'esecuzione materiale dei lavori ad altre società, anche con sede in Calabria. Una delle società in questione è stata oggetto di accertamenti economico-patrimoniali, svolti in collaborazione con gli specialisti del gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza di Milano, che hanno provveduto al sequestro preventivo di compendi aziendali, beni immobili e conti correnti, per un valore di circa 5 milioni di euro. Perquisizioni sono scattate tra Roma, Catania, Messina, Firenze, Napoli e Catanzaro.